Sì, è una partita difficile oggi, noi abbiamo giocato benissimo ma è sempre importante vincere anche con difficoltà che abbiamo avuto questo giorno. Secondo me la squadra di Monzi giocava molto bene a battuta e muro, sono troppo forti a questi elementi e non è mai facile vincere contro di loro. Prima partita abbiamo perso lì 3 a 2, oggi abbiamo vinto 3 a 2, dobbiamo stare e rimanere contenti con questa vittoria ma cercare errori e provare a non ripeterli le prossime partite. Sì, un po' dopo il primo set che abbiamo vinto eravamo un po' basso con energie, bassi con energia, posso dire un po' morti, non lo so se è giusta parola, non posso dire stanchi ma sembravamo un po' fermati, abbiamo aspettato loro cosa fanno e questo non è secondo me giusta cosa ma anche loro hanno risposto da una maniera diversa da che hanno giocato il primo set. Andiamo avanti. Sì, di nuovo questo infortunio, siamo molto tristi per lui e speriamo che tornerà presto, è un grande giocatore, è un giocatore che aiuta molto questa squadra. Sì, ma anche dobbiamo cercare altro elemento che lavora bene per vincere le partite, è sempre importante vincere alla fine anche quando non battiamo così molto bene. Secondo me, secondo terzo e quarto set avevamo molte occasioni per farle contraattacchi ma non abbiamo sfruttati e per quello siamo rimasti sotto. Una lezione che può servire alla prefettura da sempre. Grazie.